Venditalia 2022 continua, siamo allo stand di Zonzini, l'azienda italiana che realizza carrelli, sali, scale che ormai sono presenti in tutto il mondo e siamo in compagnia del suo CEO, Jacopo Zonzini. Jacopo, bentornato. Ciao Fabio, buongiorno a tutti. Bentrovato. Bentrovato tu dopo almeno quattro anni, sono quattro anni che non comunichiamo insieme attraverso Vending TV e tu dopo quattro anni mi dici ma tu lo sai che abbiamo una novità strepitosa? Io ti chiedo davvero che cos'è e me l'hai spiegato. Ora però spieghiamolo anche loro. Allora Fabio, noi in questi quattro anni avevamo due possibilità, o sederci e aspettare o fare innovazione e naturalmente abbiamo scelto la strada dell'innovazione che è un po' la nostra vocazione da sempre. Siamo qui felici di presentare il nuovo prodotto Domino Plasmoid stabilizzato che è dotato di tutta una sensoristica e le solite caratteristiche che lo contraddistinguono nel mercato e lo rendono estremamente sicuro, ma in quest'ultima configurazione è davvero sicurezza allo stato puro perché siamo riusciti ad eliminare l'ultimo passaggio che era l'ingresso sul pianerottolo sia in salita sia in discesa che era un po' quello più da capire con il modello precedente. Adesso c'è un braccio stabilizzatore che si appoggia al pianerottolo e tiene il contatto con la scala dotato di sensori e c'è anche un sensore posto frontalmente che legge la presenza di gradini oppure no e che quindi fa bloccare istantaneamente la macchina. Quindi diciamo che quest'ultima versione, non dico che sia utilizzabile anche da un bambino, ma poco ci manca. Noi, mentre tu parlavi, guardavamo i vari dettagli che illustravi con delle riprese specifiche. Jacopo, quanto tempo in termini di ricerca e sviluppo siete riusciti a dedicare a questo progetto? Allora, noi stiamo lavorando su questo progetto in segretezza dal 2017. Ci sono stati innumereboli tentativi prima di riuscire ad arrivare al risultato finale, anche perché noi siamo i primi critici di noi stessi, nel senso che comunque se proviamo e testiamo un prodotto che non ci convince al 100%, non lo immettiamo sul mercato. Quindi piuttosto temporeggiamo, aspettiamo un anno, anche due anni al fine di perfezionarlo e solo successivamente lo presentiamo. Siamo felici di essere finalmente in fiera, in presenza, a mostrare questa nostra ultima innovazione. Ecco, io mi sono permesso, ma davvero in totale buona fede, di sovrannominare questo carrello, questa ultima creazione da ultimate, come si dice in inglese, cioè la versione definitiva. Allora, diciamo che allo stato attuale delle cose effettivamente ci viene difficile riuscire ad immaginare ulteriori modifiche su questo prodotto perché appunto fa praticamente tutto lui in questa configurazione. Per cui non escludo che ci siano e ci saranno sicuramente nuove modifiche in futuro, ma sicuramente non a breve. Diciamo in ogni caso che l'avete pensata talmente bene che fare qualcosa in più, di più sicuro, di più utile, di più efficace risulta davvero difficile. Allora, pensa che questo nuovo prodotto, oltre ad essere dotato di tutta una sensoristica e una stabilizzazione del carico sul pianerottolo, è l'unico carrello salescale al mondo che si connette ad internet. Quindi quando tu lo utilizzi, lui da solo, automaticamente, nel giro di un minuto va online e inizia a scambiare informazioni con il cloud che noi mettiamo a disposizione al cliente. Il cliente può controllare il ciclo di lavoro giornaliero e lo stato di salute del carrello. Quindi veramente ha la possibilità addirittura di eseguire un aggiornamento software se necessario, anche a distanza. Per cui veramente dal punto di vista del controllo è il massimo del massimo che si possa avere. Jacopo, dunque, diamo un indirizzo di posta elettronica a coloro che stanno guardando questa intervista per mettersi in contatto diretto con voi e chiedervi maggiori informazioni. Prezzo, modalità di pagamento, rateizzazione eventuale, modalità di trasporto e così via. Allora, grazie Fabio. Noi invitiamo tutti a visitare il nostro sito zonzini.it per vedere in azione i nostri prodotti e a contattarci a info.zonzini.it per tutte le richieste. Grazie Jacopo per la spiegazione veramente estremamente efficace. Noi siamo rimasti un po' come dire sbalorditi da questo The Ultimate perché veramente oltre questo è difficile fare di meglio, ma nel frattempo abbiamo da proporvi tantissime altre novità presentate qui a Venditalia 2022 e dunque non andate via, noi continuiamo. Ciao, ciao Jacopo. Ciao a tutti.